Atletica Atletica, Rovereto, Vola Kini Mal, Poca Italia 53esimo palio della Quercia, a Rovereto e serata di Atletica. Julian Forte, recente 991, controlla i 100, chiude in 1.700, piace soprattutto sul lanciato. 8 centesimi di margine sul turco Harvey. Kini Mal, 20enne keniano meno demolisce il personale negli 800. 14.394, gara intelligente, rettilineo di successo. Piega Gacheme, terzo e Tuca. Quarto crono dell'anno, senza dubbio il miglior risultato tecnico. . Il britannico Covan, 4563, si aggiudica ai 400. Spicchio d'azzurro, senza arre, di recente alle Universiadi di Taipei, l'Italia scopre aceti, talento in rapida ascesa. . 4.668, mostra qualche crepa, naturale al tramonto di stagioni, ma il talento è in esposizione. 5.000 Abalev, 132.281, 110 HSI Atom, 1.352. . Lo spagnolo Torrigio s'avvicina ai 17 metri nel triplo, 16.96, buona performance di Finlay nel disco, 64.77. L'americano, protagonista a Londra, precede il veterano Kanter. . . Al femminile, 100 alla Tenorio, 1118, mentre nei 400 sigillo della Jamaicana Mkpherson, 5086. La Kit Bolu Arranca, 5320, stesso tempo nella seconda serie per La Spacca. . La Nihon Saba non ha problemi negli 800, riferimento, per lei, modesto. 20.114, ottava la Sanchiusti, 20.326. . Non incanta nei 3.000 la Magnani. Ha lungo coperta, prova a risalire la corrente a due giri dal termine, ma non ha lo spunto per ricucire il gap che separa le prime dal resto del gruppo. . . Ha solo della Rengeruk, 85104. Nei 400 HS, firma della Tracei, 5458, terza una discreta Caravelli, non lontana dal personale, 5609. Infine, alto alla Tabasnik, 1.95, seconda la favorita Lechenko, 1.83 per la Furlani, e giavellotto alla Muzze. . . . . . . .